L'assessore Filipponi dovrebbe sapere che durante la gestione vecchia della cooperativa che vi era gli stalli chiaramente sapevamo che non erano a norma ma dal momento che è stato presentato un project financing che dal momento che è stato presentato un bando di gara e quindi abbiamo dei nuovi diciamo vincitori di questa gestione dei parcheggi a pagamento sono stati anche, guardi io glielo mostro però le darò l'opportunità di fotocopiare e quindi di mostrare ai cittadini, sono stati fatti dei chiarimenti e questa è la relazione tecnica illustrativa del progetto. Su questa illustrazione vi è chiaramente gli stalli come devono essere le misure e qui non ci sono dubbi nel leggere che devono essere 5 metri per 2,50. Quindi l'assessore Filipponi non ha letto nemmeno il bando, non ha letto nemmeno la convenzione che è stata firmata. Allora la domanda che io mi pongo, era vera la mia teoria che i ragazzi che non hanno fatto un giorno di lavoro, i ragazzi che non hanno un'esperienza devono prima lavorare, devono prima fare esperienza, poi si possono candidare e poi per ultimo fare gli assessori. L'assessore Filipponi non sa che il codice della strada è una legge prevalente. Quello che cita lui innanzitutto non fa riferimento agli stalli a pagamento ma fa riferimento agli stalli liberi perché vede quando noi andiamo e parcheggiamo su uno stallo libero difficilmente troviamo 2,50 però non paghiamo. L'assessore Filipponi deve studiare, deve capire che lui non ha nessuna esperienza da poter portare e non ci può insegnare proprio nulla. Quindi purtroppo l'assessore Filipponi fa l'ennesima brutta figura, si sbrigasse a cambiare tutti gli stalli di Teramo, li portasse tutti a norma perché sennò sono costretto realmente a rivolgermi alla procura.